Arte Fiera è un momento importante di incontro e confronto fra gli appassionati dell'arte contemporanea che parte da queste strutture e arriva in città. Perché è importante per questa città avere e curare un evento come questo? Perché è il momento in cui Bologna si disvela. Bologna è una città abbastanza segreta che ha piena di tesori nascosti e attraverso il volano della Fiera, che è il catalizzatore della situazione artistica, si aprono cortili, musei, gallerie private e tutti cercano di dare il meglio. In questo modo Bologna viene attraversata da un'energia abbastanza unica nell'anno, abbastanza particolare, una specie di febbre in cui si corre sempre, si ha paura di perdere qualcosa perché sono talmente tante le cose che vengono offerte al pubblico che appunto c'è quest'ansia di non riuscire a vedere tutto. Questo è un ottimo momento. Da un punto di vista dello stato dell'arte invece moderna e contemporanea e della creatività, qual è il livello, insomma come si sta? Ma la creatività nelle fasi di crisi di solito si sviluppa, non viene mortificata e quindi qua abbiamo anche l'occasione di vedere tanti artisti giovani, tante proposte interessanti che proprio nascono da un momento difficile e come se fosse una reazione ad una fase diciamo quasi bellica, quasi di guerra come quella che abbiamo attraversato in questi ultimi anni perché la crisi è stata senza precedenti, per cui c'è come un risveglio secondo me di grandissimo interesse.